La traiettoria del passaggio La partita vive oggi ovviamente anche della sfida a distanza fra questi due grandi attaccanti C'è grande attesa, vedremo come finirà Sono davvero curioso di vedere come... Attenzione, occasione! Pronti via! Ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria Un approccio che sembra aver funzionato È scattato sul filo del fuorigioco, sul bel pallone, il trend del compagno Come conferma questo replay Ripartenza micidiana, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere E non ha sbagliato Ha sfruttato la perfezione, la chance che gli è capitata, bravo Ecco...